Nel Cremonese di nuovo caccia la Pantera Nera. Dopo gli avvistamenti di anni fa nelle campagne attorno a Casalbutano, un felino di grosse dimensioni sarebbe stato visto girarsi a Gere dei Caprioli, nei pressi dell'acciclabile che porta Stagno Lombardo. A vederla è stato un militare della Col di Lana, Giuseppe Ferraro, 41enne, in servizio da 20 anni al X Reggimento Genio Guastatori. Lui non ha dubbi. L'animale che ieri mattina alle 10.30 gli ha attraversato la strada mentre era in mountain bike, era una Pantera. Ferraro ha subito allertato le forze dell'ordine, inoltrando una segnalazione formale ai carabinieri di Cremona. Inutile dire che da quel momento sono scattate tutte le misure del caso, perché anche se come sempre in questi casi la prudenza nel confermare un simile avvistamento non è mai troppa, le azioni per garantire la sicurezza alla popolazione entrano subito in vigore. L'allerta è stata così passata anche alla Polizia Provinciale, alla Forestale e ovviamente alla Prefettura, dove oggi è previsto un tavolo straordinario per gestire la situazione e dare l'avvio a ricerche a tutto campo, anche forse con l'intervento di esperti. Intanto sui social, come comprensibile, la notizia sta suscitando clamore dividendo chi non ci crede da chi invece è pronto a dare credito a questa nuova caccia estiva.